Sono sulla finestra del balcone. No, non si può dire sono sulla finestra del balcone, sono sul balcone. Domenica pomeriggio sento delle voci, forse le sentite anche voi, però non vedo nessuno per strada, quindi evidentemente qualcuno che così festeggia dentro una casa oppure sotto il mio balcone in un punto che io da qua non vedo. Sono al quarto piano, quindi non credo nemmeno sia il caso di sporgermi troppo. È una domenica, diciamo, di passaggio perché sono appena rientrata da una vacanza e quindi sto riprendendo contatto con la casa. Poi tra l'altro nelle settimane che sono stata via è arrivato l'inverno, quindi ho fatto anche il cambio dell'armadio, passaggio fondamentale per potersi mettere qualcosa per uscire o comunque per sentirsi a proprio agio, almeno per me lo è un passaggio fondamentale. Ogni volta che faccio poi il cambio dell'armadio mi ripropongo di limitare il numero di capi, però ne ho già parlato, mi sa di averne parlato anche non troppo tempo fa, forse prima di andare in vacanza. No, è una bella giornata perché nonostante appunto la temperatura si sia abbassata notevolmente, però diciamo che ancora abbiamo le massime di 21-22, domani mi pare che facciano addirittura 23 gradi. Oggi sono andata tra l'altro a fare una passeggiata in spiaggia ed è sempre una cosa che mi rallegra. sei lì seduta che ti bevi un aperitivo e pensi ma quanto siamo fortunati a vivere in un posto dove anche d'inverno si può tranquillamente stare al sole perché il sole riscalda, non è come certi paesi del nord, quindi sto riprendendo contatto con le mie abitudini, con il mio mondo qua, con tutto quello che ne consegue. Stagione di raffreddori, infatti c'è già diversa gente che ha il raffreddore, altri vari malanni, che però si chiamano mali di stagione per un motivo, perché vengono con la stagione, ma non mi lamento più di tanto. Potete forse sentire anche in sottofondo Mazinga che ogni volta che mi vede parlare col telefono in mano, io ho il telefono in mano per contare i minuti, non lo so, vuole essere accarezzata. Se io poco poco faccio l'errore di accarezzarla, allora mi si appiccica addosso e non si stacca più e le carezze le chiede in modo molto violento, perché se incomincio a accarezzare la testa e poi smetto con la manina, con la zampetta e con le unghiette, mi fa capire che forse è meglio che continui perché è una cosa che a lei dà molto piacere. Poi vabbè, ecco, eccola già che mi arriva con la zampetta e che mi graffia Mazinga, smettila. Forse è meglio che chiuda e che mi dedichi un po' alla mia gatta, che anche lei ha sentito la mia lontananza.